Chiediamo ai cittadini di essere protagonisti della sicurezza nei giorni del G7. Queste le parole con le quali il prefetto di Brindisi Luigi Carnevale ha annunciato quelle che sono le misure previste per i giorni del forum dei vertici dei grandi della terra alla presenza dei sindaci del territorio Zaccaria e Marchionna ma anche del presidente della provincia di Brindisi Tony Matarrelli e del questore Gianpietro Lionetti. Ci sono misure che sicuramente impattano anche sulla vita dei residenti di queste aree ma che sono state adottate tenendo conto al massimo delle esigenze della popolazione sono state introdotte tutta una serie di iniziative volte ad alleggerire al massimo ovviamente il peso di questi disagi. Abbiamo fatto questo lavoro molto faticoso senza però mai trascurare come diceva lei quelle che sono anche gli affanni quotidiani che questo territorio vive non ci siamo mai dimenticati che c'è una crisi occupazionale che è incombente e quindi noi speriamo tanto anche che questo esito su cui siamo pronti a scommettere che sarà positivo della gestione di questo evento costituisca anche un credito per questa terra, per questa realtà per poter ottenere anche un'attenzione maggiore una volta che si saranno spenti i riflettori su questo avvenimento per un'attenzione dedicata alle problematiche del lavoro in questa area. La questura sarà disponibile a qualsiasi tipo di esigenza soprattutto quella delle persone più deboli, noi ci saremo sempre. La possibilità di manifestare da parte dei cittadini rispetto a delle politiche di qualsiasi tipo fa parte della nostra Costituzione quindi tutti abbiamo il diritto di manifestare e bisogna far manifestare chi dissente rispetto alle politiche in questo caso magari del G7 ma questo non vuol dire fare violenza vuol dire manifestare le proprie idee ma nel modo corretto così come consentito dalla legge e dalla Costituzione.